Colpo da tre punti per il Gela di Pietro Infantino. Nel difficilissimo derby in trasferta contro il Due Torri, giocato a Gliacca di Piraino, i Biancazzurri hanno conquistato tre punti d'oro che in merito ai risultati delle altre squadre hanno proiettato il team gelese in testa alla classifica del torneo di Ceredì assieme ai Gevirtus, Rende e Sicula Leonzio. Per il Gela si tratta della seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta la domenica precedente al Palesti contro il Sersale. Prima ancora era arrivato al debutto il pareggio con il Pomigliano d'Arco, sette punti in tre partite, un bottino cospicuo per una squadra che dopo una crisi societaria devastante sta facendo benissimo, al di là di ogni più rosea aspettativa. Ieri, come dicevamo, Nassi e Compagna hanno conquistato una vittoria pesantissima su un campo difficile. Il gol partita lo ha realizzato al decimo del secondo tempo l'Ucraino Kosovan. Il Due Torri ha avuto una ghiotto occasione ad inizio gara ma è stato bravissimo il portiere Seitta a ipnotizzare il giocatore avversario. Nella ripresa, dopo pochi minuti, il Due Torri ha provato a confere alla rete ma anche in questo caso è stato bravo il guardia pari gelese. Ancora Due Torri ma la palla non è voluta entrare in porta. Gol sbagliato, gol subito e la legge non scritta del calcio. 1-0 per il Gela. I biancazzurri hanno avuto con Nassi l'occasione per il 2-0 ma il portiere messinese ha detto di no. Ancora Kosovan, nessuno dei compagni però approfitta di un velenoso tiro cross e nei minuti di recupero il Due Torri ha l'occasionissima per pareggiare ma Seitta c'è. Finisce con i tifosi del Gela entusiasti con i propri Benemini. Un successo che fa morale ma fa soprattutto classifica. Vedere il Gela comandare anche se in condominio il girone I del torneo di Serie D è semplicemente fantastico. E domenica prossima il calendario offre un partitone e in programma Gela Gladiator. Avanti così ci sarà da divertirsi.